Benvenuti al meteo. La discesa di un nucleo d'aria fredda in quota verso l'Italia condizionerà il tempo sulla nostra regione per la giornata di mercoledì, ragion per cui ci aspettiamo condizioni di estrema instabilità con possibilità di precipitazioni un po' su tutto il territorio a carattere di rovescio temporale. Le temperature subiranno un lieve calo, i venti saranno deboli, tutt'al più moderati settentrionali ed il mare moderatamente mosso. Per ora questo è tutto, arrivederci!